È mercoledì 14 aprile, stiamo ancora leggendo il capitolo terzo di Giovanni. Oggi al versetto 16 forse c'è una delle frasi più bomba del mondo contenute nel Vangelo. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare al suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Ecco, è la quantificazione dell'amore di Dio che è veramente una cosa incredibile. Quanto è grande l'amore di Dio? È grande come il figlio. Quanto è grande il figlio? È grande come Dio. Dio ama assolutamente coincidendo con se stesso. L'amore di Dio è coincidente con la sua grandezza, quindi è assolutamente infinito, sterminato. Per questo possiamo sempre confidare sulla sua infinita misericordia. Infinita misericordia che è anche da mettere in relazione al secondo tema importante del Vangelo, che è la lotta luce e tenebre. Ecco, noi tutti che abbiamo sempre qualche rovellino, qualche cosa che non vogliamo far vedere a Dio, non è che disprezziamo così tanto le tenebre, ci fanno comodo ogni tanto, un po' come i bambini quando fanno una marachella, si nascondono, non la fanno vedere, la mettono sotto il tappeto, eccetera, eccetera. E quindi anche per noi è importante sapere che la luce comunque illumina anche le nostre fatiche e che anche le nostre fatiche possono essere reinterpretate, rilette e anche redente dalla luce che viene da Gesù. Allora cerchiamo di essere bambini molto birichini, ma che fanno cose che cercano di fare sempre per il bene e poi se saranno cose un pochino fuori dalle righe ci penserà il Signore, che è un padre buono. Come tutti i padri buoni, anche se facciamo una cosa che volevamo fatta bene, ma non è proprio fatta benissimo, troverà il modo di aggiustarla. Buona giornata e fatti buoni, ma non più di tanto. Marachelle, ciao!